ma che cos'è una vigilia di natale senza tortelle di zucca almeno qui nel mantovano ci siamo stati la settimana scorsa e torniamo alla cigno o trattoria dei martini a vedere che cosa succede e che cosa è rimasto e persevera di questa specialità mantovana signor Tano, signor Tano Martini un'altra cosa che volevo chiedere è appunto questa alla questione tradizional rituale della cena della vigilia di natale che è più di casa che da ristorante questo è evidente perché un tempo secondo le consuetudine ma vi sto parlando ormai di millenni fa di anni luce fa c'era che addirittura si faceva i tortelli dopo la mezzanotte ma questo era un fatto ripeto rituale il tortello di zucca perché conserva questo radicamento e questo successo pur essendo un prodotto che nasce interdetto coloro che non sono indigeni il tortello è qualcosa di sacrale però è quello della vigilia di natale c'è una c'è con la nascita di cristo e quindi era un'assunzione di cibo dolce si si è proprio qualche era qualcosa di particolare tra l'altro il natale come cucina è più e più con la vigilia cioè è più ogni ogni famiglia proprio i riti uguali da sempre di da generazione in quella famiglia c'è riconoscimento soltanto del tortello di nonna sua o di mamma sua esatto esatto che è sempre meno buono ma non c'è un'esagerazione nel dolcificare il tortello vuole dire lei qui al ristorante ha avuto a delle reazioni emotive gustative strane a chi piace moltissimo chi invece rimane traumatizzato ha un gradimento molto alto anche chi non lo conosce per esempio gli stranieri rimangono sorpresi in maniera c'è sempre quello che non piace ma è difficile c'è una una percentuale altissima che ama che ama il tortello della famiglia che è decisamente dolce dopo abbiamo abbiamo anche della ristorazione che va incontro al non al cliente non mantovano e riduce un po il dolce ma io la mia ricetta è quella ci deve essere un'armonia dolce sì ma ci devono sentire tutti gli ingredienti partiamo dalla zucca decrescente formaggio amaretto mostarda addirittura quando la zucca non è dolce come deve essere dolce mia madre metteva una manciata di di uvetta sultanina si questo sta nella ricetta ad esempio a fine ottocento nel suo dizionario ferdinando arriva bene cita tortelli di zucca fatti con zucca appunto e uva passa sì però ci devono essere tutti gli ingredienti per poter avere questa armonia di di gusti una domanda che schiva il ristorante di solito la vigilia di natale only tortelli e basta solo tortelli di zucca poi ha cominciato a venire fuori il pesce il cifalo il cifalo si va bene ma al cimpiutana si si esatto piuttosto che il capitone ecco l'anguilla marinata queste cose secondo lei sono delle intrusioni successive allora io posso dirvi quello che nella mia famiglia mangiamo sempre io da quando ho 76 77 anni dunque allora si comincia con il tortello di zucca e poi in tavola il pescino sottocento simpiutana la mostarda con il formaggio mascarpone e nel pesce prima il cifalo questo è questo è e poi dopo la mamma non sparecchiava mai la tovaglia il tavolo per la vigilia perché dovevano venire a mangiare i resti i morti allora lei sparecchiava il giorno il giorno il mattino dopo ha lui che viene prima è arrivato molto dopo un'altra cosa che è molto importante sia che per il fatto che si innesta nei tortelli di zucca per il fatto che fa la compagnia i formaggi o ai lessi la mostarda c'è stata una grandissima riscoperta e riproduzione di questa specialità anche nel mantovano perché prima era ritenuta cremonese era successo cremonese ma anche da sempre a cremona facevano la mostarda con scritto su mantovana sempre cioè io mi ricordo i dondi che era dondi sperlari ma soprattutto dondi la 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 mostarda proprio nelle confezioni nel latte o anche nelle commissioni piccoli nelle varie nomenclature della 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 mostarda c'era quella mostarda mantovana per chi non lo sapesse spieghiamo che quella cremonese tradizionale intera frutti interi esplodenti il mandarino poi se si guarda molto molto entrava entrava mentre quella mantovana è in foglie esatto essere di mele o di pere ecco la mostarda è sempre presente ad esempio anche nella vostro classico che non è proprio invernale che è il capone alla stessa il capone si si presta particolarmente alla carne bianca alla mostarda carne bianca costamento ideale dopo abbiamo abbiamo posti che che fanno da mangiare e hanno un piatto di formaggi abbondanti con diversi tipi di diversi tipi di mostarda è un piatto importante per certi per certi locali io non io non amo non amo molto il piatto del del formaggio quando me lo chiedo 23 cose dell'alto mantovano una mostarda volentieri però non ho il piatto dei formaggi un'ultima domanda noi stiamo parlando di una situazione 2022 verso il 2023 una previsione da mago da mago della gusto oltre che della della ristorazione mantovana tra 50 anni i martini che cosa prevedono cioè i mantovani che cosa chiederanno e cosa cercheranno nei ristoranti allora la pericolosità di una di questo periodo di questo modo di cucinare che va adesso è di perdere le tradizioni noi abbiamo in italia abbiamo una cucina eccezionale perché ogni ogni provincia ha delle cose sue in alt'italia in meridione con delle con delle verdure dei profumi delle cose ecco noi stiamo perdendo questa i grandi cuochi sono di grandi artisti ed è permesso le cose che fanno mescolare perché hanno hanno alle spalle una cultura una ma fanno anche tra virgolette tanto male perché vanno i giovani che adesso le scuole sono tutti sono tutti i cuochi non c'è più non c'è più la sala ristorante perché la visibilità che dalla televisione loro sono attratti da queste cose qui queste queste ragazze qui magari che hanno una trattoria poi coi genitori hanno vanno in questi posti qui e dicono ma la faccio anch'io questa roba qui invece non è vero e allora questo può far male poi dopo senza dire senza nascondere che il giornalismo e le guide tendono a far esaltare questa cucina sempre la mia cucina interessa a nessuno a livello a livello di giornalismo è una cucina non possono parlare tirare fuori tante tante non è una cucina televisiva è una cucina mangiabile però sì però ben prendiamo prendiamo una cosa le vinitaly vinitaly vengono tutti tutta la ristorazione italiana praticamente ma i tutti i nostri colleghi non scegliono un ristorante come questo scegliono un ristorante dove dove è stellato uno due tre volte come abbiamo noi e vanno in questi posti qui per vedere queste cose qui una cucina come la mia tradizione non interessa molto interessa i miei clienti ai clienti che fanno che passano parola questo non è vero e allora che cosa diciamo ai nostri spettatori chi segue omnia mantova auguri di buon natale buona vigilia e naturalmente partendo dai tortelli di zucca grazie ai coniugi martini per l'ospitalità grazie a voi dell'opportunità e tanti auguri a tutti grazie Grazie a tutti